Vado! Vai Sissi! Vai Sissi! È un video in 3D bambino! Ma piace invece! Spostati un po' nella tua pulita! Si! E gli dimenticano anche un po' crittinetta! E' un video in 3D! 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 E' un picchu picchu! E' un picchu picchu no! Ma dai! E' un picchu picchu! Dai! Non si vede la picchia! Oh oh oh! Da 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 do! Andiamo a mangiare col seggiolone! Da 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 do! Da 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 da! Da 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 da! Spendi!